amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazione autosportive oggi vi presentiamo ne abbiamo già presentata una recentemente una golf 8r quindi il top di gamma delle golf questa fra l'altro è quella performance pack quindi rispetto a quella precedente che aveva 300 cavalli la performance pack a 320 cavalli diciamo di origine come dicevo è la golf più potente fatta recentemente comunque anche di tutte le serie precedenti proprio al massimo in termini di prestazioni quello che ci ha chiesto il cliente sostanzialmente è uno stage 1 quindi rimappatura della centralina elettronica abbiamo rimappato la sua centralina principale rivedendo appunto i parametri per avere un guadagno grosso modo di 35 38 cavalli quindi da 320 siamo arrivati a oltre 360 cavalli sempre per mantenere sono vetture sulle quali si può intervenire a livello di pressione anche spingendo un pochino di più i parametri però a livello di metodologie di lavoro nostra cerchiamo sempre di non andare oltre certe soglie il lavoro particolare che è stato fatto a livello sempre motore oltre al discorso dell'aspirazione è la parte scarico dove è stato montato un tubo centrale che elimina l'opf che l'opf più o meno da in questo punto qua questo è un tubo centrale della miltec che va appunto a eliminare l'opf e sulla parte terminale è stato abbiamo montato un terminale della krapovic originale a quattro uscite quindi questo a livello di linea di scarico ha liberato completamente la linea e ha aiutato molto quello che è il diciamo il flusso dei gas e anche ovviamente il sound dopo casomai vediamo di fare una prova dinamica e cerchiamo di farvi sentire anche il sound e un pochino le prestazioni poi per finire il cliente ci ha chiesto di montare due parti estetiche c'è questo chiamiamo l'estrattore posteriore in plastica e adesso si vede lassù in alto quello spoiler diciamo che è stato applicato sullo spoiler resistente sono tutti e due componenti della maxton design quindi è un'azienda come ho già descritto svariate volte che opera in polonia fa dei buoni prodotti soprattutto una gamma molto particolare sono dei prodotti che montano fra virgolette come diciamo noi in gergo in maniera perfetta quindi il vantaggio è quello di per velocizzare il lavoro e per non diventare buttare via troppo tempo e tante volte anche trovarci in difficoltà avere dei pezzi che montano in maniera perfetta e devo dire che questi qua della maxton sono degli ottimi l'unico problema che diciamo sempre ai nostri clienti essendo un'azienda che lavora sul venduto difficilmente si trovano pezzi in pronta consegna ma gli ordini vengono fatti i tempi di consegna sono dai 30 ai 40 giorni quindi bisogna mettersi il cuore in pace pezzi belli ma tempi di consegna molto lunghi per il resto direi che altro su questa golf direi è tutto per qualunque tipo di informazione come sempre vi chiediamo di contattarci in sede allo 027383175 io sono luca sono lì dal lunedì al venerdì rispondo a qualunque tipo di richiesta sia telefonica che tutte le mail che ci mandate o sui social rispondiamo sempre a tutti vi ricordiamo appunto di consultare il sito www.nomilagiri.it soprattutto all'interno dell'archivio elaborazione dove troverete più di 3600 schede vettura poi adesso metteremo dentro anche la scheda e il video di questa golf e vi chiediamo appunto di cliccare sulla campanella iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima